Ho sentito queste urla strazianti, veramente mi hanno spezzate il cuore. Gli abitanti della piazza centrale di Castelfranco di sopra, nel Baldarno Aretino, hanno sentito un urlo straziante. Erano le 14, quando la madre della piccolina di appena 16 mesi si accorta di averla lasciata in auto sotto al sole, fin dalle 8 del mattino. Dopo 6 ore l'ha ritrovata, esanime, in arresto cardiaco. Avrebbe dovuto portarla al nido, ma qualcosa nella tua sesta. Questa mattina è andato in filta ed invece si addiretta al lavoro, nel palazzo comunale, dove ricopre il ruolo di segretario. È stata subito ascoltata dai carabinieri, da Rezzo è giunto anche il procuratore ed anche il padre viene ascoltato per capire meglio le ultime ore prima della tragedia. La piccola era figlia unica della coppia. È stata rianimata a lungo con un defibrillatore, la madre è presente. Il 118 ha provato a salvarla, ma ormai era tardi. È un'omunità intera che soffre, starà insieme a loro. Per la vera sofferenza c'è questa mamma e questo babbo. Se si pensa alla mamma, penso che questa signora ne soffrirà forse per tutta la vita. Su Facebook, come molte altre mamme, anche lei aveva scritto frasi che testimoniavano la difficoltà per una donna di essere lavoratrice e madre. Una tragedia simile in Toscana accadde anche meno di un anno fa. Era la fine del luglio del 2016, quando morì una bambina di 18 mesi a Vada, nel Livornese.